Ischia e in particolare Forio, protagoniste nel mondo. La storica banda Città di Forio, guidata dal maestro Claudio Matarese e presieduta da Maria Russo, ha portato la sua musica persino in Francia, vivendo un'esperienza indimenticabile soprattutto per i tanti componenti, prevalentemente giovani, della banda. La grande famiglia Foriana è partita lo scorso venerdì, arrivando in serata in terra francese. La mattinata di sabato è stata dedicata alla visita guidata di Tour. Nel pomeriggio, invece, la visita si è spostata ad Amboise e al castello dove ha vissuto ed è stato poi sepolto Leonardo da Vinci. Domenica 10 novembre, dopo la visita mattutina a Benè, nel pomeriggio il via alle esibizioni. Sono stati eseguiti pezzi classici e non solo facente parte del ampio repertorio della banda di Forio. Spazio anche ad alcuni brani lirici, cantati dal soprano Antonella Iacono e poi l'immancabile Osole Mio e l'inno nazionale hanno riscaldato il pubblico, che ha partecipato numeroso alle esibizioni richiedendo più volte il bis. Nella giornata di lunedì, invece, l'incontro con le autorità comunali di Tour in occasione del centunesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Nel pomeriggio, poi, un'altra esibizione nella sala consigliare del municipio. Anche in questo caso c'è stata una massiccia partecipazione di pubblico francese, deliziato anche dalla giunta di due brani cantati dal maestro Claudio Matarese, il quale è riuscito a coinvolgere particolarmente il pubblico. Il concerto ha visto alternarsi la banda di Forio con l'orchestra di Tour. Le due bande sono infatti legate da un gemellaggio e da una stretta amicizia. Dopo il concerto, un altro momento importante con le autorità comunali che hanno supportato sin da subito gli isolani e si è successivamente proceduto con lo scambio di doni e targhe di ringraziamento. Particolarmente partecipi il sindaco e i due vice sindaco di Tour, i quali hanno preso parte a tutte le esibizioni della banda foriana, dimostrando quindi grande stima e interesse. La serata è proseguita con balli e improvvisazioni musicali che hanno suggellato ulteriormente l'amicizia tra le due bande. La giornata di martedì è stata dedicata alla visita del bellissimo castello di Chenonceau e della cappella che conserva i resti di San Francesco di Paola. Mercoledì il rientro a Ischia con la consapevolezza che tutte le cose belle finiscono, ma che i bei ricordi e le belle esperienze lasciano il segno per sempre. Si chiude nel migliore dei modi l'ennesima speciale iniziativa della banda di Forio, che ancora una volta ha portato il nome di Ischia e di Forio in giro per l'Europa, dando quindi lustro alla nostra isola.